Comunque, Batman Vabbè, sono sbrigatovi perché il sonno dura, non mi ricordo quanto, se... 40 secondi Nel Vicky Monster Hunter era tipo 40 secondi il sonno Mite pezzate bombe Appena vedo anche coso Ciccio Ok Aspettate che c'ho anche questo Allora, abbiamo quelle... Adesso, avete le missile? Chi ha le missile? Sì, io, io ce le ho Ah, vieni qua Allora, vieni qua, allora 3, 2, 1, piazza Minchia Bellissimo Grandissimo ma come adesso mi vado a fk 10 minuti che bello finirla così